Quattro mesi ad Antonio Colamaria e Vincenzo Fanelli, due neurochirurghi del Policlinico di Bari che non si accorsero della garda dimenticata dopo un intervento per la rimozione di un tumore al cervello, nella testa di una paziente di Monopoli, morte per questa ragione. Il giudice monocratico del Tribunale di Bari, Giovanni Zaccaro, ha assolto invece i due chirurghi e il ferrista dell'Equip che eseguì l'intervento all'ospedale Carlo Besta di Milano. Il processo di primo grado si è concluso con una sentenza che lascia perplessi, condannando i medici rei di non aver compreso che i disturbi della paziente erano dovuti a quel pezzo di cotone, dimenticato però da altri medici invece assolti. Franca Spinosa, 47 anni, originaria di Monopoli, fu operata a Milano nell'aprile del 2008. Dopo l'intervento di asportazione di un meningioma, rientrò in Puglia e cominciò ad accusare mal di testa e vomito, disturbi divenuti sempre più frequenti, di tanto da rendere necessario un altro ricovero, questa volta al Policlinico di Bari, dove la donna fu messa sotto osservazione. Le sue condizioni precipitarono. Quattro giorni dopo il ricovero, Franca Spinosa morì. Era il 9 giugno del 2008. Le indagini, coordinate dal Pubblico Ministero della Procura di Bari, Ettore Cardinali, accertarono poi che durante l'intervento a Milano era stata dimenticata una garza che causò alla paziente un aumento della pressione nel cranio, con conseguenze tali da condurla alla morte. Oltre ai due chirurghi e all'infermiere di Milano, assolto anche un terzo medico del Policlinico di Bari, che visitò la paziente quando le sue condizioni erano ormai disperate.